SOS Arezzo TV, buonasera Beppe, piove, 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 piove il governo ladro? No, quale governo? Tutti, quello fotocopia, quello prima del copia e incolla, quello dopo, quale vuoi fare? Quello che ti pare, purtroppo qui la situazione in Italia non è delle migliori a livello politico Qui c'è sempre bis, tris Poi si gioca anche con la magistratura, questo è il male Hai detto parole forti Si gioca con la magistratura Allora, via Provenza, zona attenzionata, come dicono le forze dell'ordine da tempo, anche dalle nostre telecamere Ci fa piacere che appena arrivate abbiamo visto, forse perché è l'ora d'uscita dell'asilo, delle scuole, cosa c'è qui vicino Abbiamo visto una pattuglia da municipale che fa un giro Ci ha guardato male Ci ha venito a comprare le scale Con la telecamera siamo ultra insospettabili Questa è una zona, purtroppo, dove i tossicodipendenti lasciano siringhe Lasciano, insomma, diciamo, purtroppo residui di ogni tipo E qui vediamo il solito consueto spettacolo C'è stato qui anche il soprallogo del nuovo comandante della Polizia Municipale Che probabilmente, ci auguriamo, prenderà provvedimenti che però, come vedi, ancora non sono stati presi Perché qui c'è il solito residui di passaggio di tossicodipendenti E pensate qui, sicuramente, vedo che ci sono delle abitazioni, famiglie, quindi bambini Qui si riesce a prenderci qualcosa di importante come malattia E poi, vedi, è una strada chiusa, costeggia la ferrovia Ci buttano, hanno buttato giù anche questa transenna Eh sì, si torna comodo, questa sera vanno là tutto buio Eh sì, e si bucano, e si cosa Tra l'altro sappiamo che qui in zona, insomma, ci sono state anche delle rapine Purtroppo anche anziani, ne abbiamo parlato, no? Comunque, aggressioni, scippi E la cosa incredibile, tra virgolette, è che tutto viene fatto sotto il naso dell'ufficio a manutenzione Che si trova qui accanto Vedete, per vedere lo stato, vabbè Perché poi li buttano anche di qua, eh Vedi? Vedi? Se vi affacciate Quindi, insomma, oltre ai sopralluoghi, come è stato anche ricordato in Consiglio Comunale Occorrerebbe che, oltre a fare il sopralluogo, insomma, si venisse intanto a ripulirla Perché qui mi pare che non credo sia stato fatto negli ultimi giorni questo, no? Io penso che anche a richiuderla come si deve, in modo tale che non c'entrino nessuno dentro Il problema di questo sarebbe un sito da chiudere tutto, su all'ingresso Sì, però qui ci sono dei parcheggi, purtroppo il problema dei parcheggi Residenti, è importante Fossi residente qui non ce la mettei tanto Eh, qui c'è un rischio, eh Sì, c'è anche queste notte qui vicino Eh, c'è stato questo incendio in Viana Zagosal Però sai, è purtroppo comodo, i parcheggi non ce ne sono in nessun posto E togliere i parcheggi diventa veramente un problema Però qua su, secondo me, sarebbe da chiudere qui all'ingresso In modo tale che nessuno potesse entrare Se vuoi fare un grill, una carne alla griglia C'è tutto l'occorrente qui Vabbè, almeno quello non è qui niente Fossi di nuovo vice sindaco, assessore alla sicurezza Tu chiuderesti tutto qui Tu non mi vuoi bene No, ho detto se fosse, un gioco No, tu non mi vuoi bene No, non ti voglio bene Un gioco tu chiuderesti qui Eh, tu ho detto io Sarebbe da chiudere qui onde evitare problematiche Perché qui si eliminerebbe questa Quest'angoletto buio e tranquillo Anche se le luci ci sono, eh Adesso sono accese, guarda, è tutto illuminato, eh Appunto uno vede meglio dove bucarsi Eh, non lo so Quindi non è che sia completamente al buio Insomma Ma siccome è di lascia del comune d'Arezzo Questa proprietà del comune d'Arezzo Sicuramente farebbe il muro, giuderei E ampliere la manutenzione Logicamente ci sono i problemi di questi 10, 7, 8 posti macchina Che vengono tolti Però, che ti devo dire io Forse il male minore sarebbe togliere i posti macchina Non lo so, non sarebbe valutato Però qui il problema va risolto Quest'angolo va Non va bene Perché è uno degli angoli Non è l'unico qui a Saione Ma insomma è uno degli angoli Dove purtroppo accadono queste cose Esatto E quindi insomma Bisogna che Che il nuovo comandante Che si è preso a cuore Visto che è venuto subito qui A vedere cosa succede In via Provenza E come vedete Continua a succedere Perché non è stato ripulito Addirittura le transene sono sfondate Piuttosto che continuare Con questa fissazione Di mettere questi cosi Cavallotti Anche questi mezzi distrutti Io veramente non riesco a capire Cioè è una fissazione Il problema è che la gente li chiede La gente li chiede Cioè capito Hanno riempito la città di questi cavallotti Cioè dappertutto Te lo dico io che la gente li chiede Io qualche volta mi sono anche arrabbiato La fanno anche ritogliere In qualche posto Grande Vedi che c'è arrabbiato No perché effettivamente Sarei esagerati Però purtroppo La gente li chiede Li chiede Va bene Allora ci aggiamo Che qui in via Provenza Ci sia questo regalo di Natale Vediamo di sistemare Di metterla in sicurezza Di evitare queste presenze Con soluzioni più o meno drastiche Ma deve essere fatto Perché non è accettabile Che in un quartiere così popolato Con l'ufficio di manutenzione L'asilo Ci sia questo spettacolo Sicuramente sì Sono d'accordo con te Ci vediamo domani Ciao